Dopo molte giornate caratterizzate da correnti umide c'è un lieve cambiamento con promontore anticiclonico che almeno temporaneamente porta un po' più di stabilità e anche aria un po' più secca anche nei bassi strati con le correnti da nord-est. Per quanto per la giornata di sabato avremo un tempo abbastanza buono sulla nostra regione con un cielo in prevalenza poco nuvoloso, qualche nube in più sul Tarvisiano nei bassi strati dovute appunto alle correnti da est in sollevamento dall'Austria, mentre sulla costa e sul giorno orientale ci sarà un po' di bora, bora moderata che appunto porterà anche un lieve calo delle temperature e quindi qualche grado in meno rispetto ai giorni scorsi. Nella giornata di domenica c'è un fronte che arriva velocemente, un aumento della nuvolosità già al mattino, poi più nubi al pomeriggio, in serata probabili piogge sparse che diventeranno poi abbondanti nella notte. Sulla costa il Borino lascerà poi lo spazio allo scirocco nelle ore notturne. Per quanto riguarda la montagna avremo anche delle nevicate che lunedì saranno un po' più consistenti, appunto lunedì mattina intorno ai 1000 metri di quota, poi probabilmente calerà la quota anche a 700 metri nel Tarvisiano. Piogge al mattino di lunedì su pianura e costa, poi miglioramento, tornerà a soffiare bora anche forte sulla costa nel pomeriggio sera di lunedì e finalmente martedì avremo una bella giornata di sole con cielo in prevalenza sereno, qualche nuvola ancora a Tarvisio, bora forte sulla costa e sulle zone orientali e calo delle temperature, un primo assaggio d'inverno che però durerà poco. Buon fine settimana a tutti.